Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo alla guida della nuova Nissan Qashqai, la terza generazione del modello che a tutti gli effetti ha inventato il segmento dei crossover, vale a dire quella via di mezzo fra una berlina e un fuoristrada, quindi un'altezza da terra un po' più elevata ma comunque delle doti dinamiche da vettura appunto compatta da una berlina senza avere delle pretese appunto da fuoristrada. In questo caso siamo alla guida della variante con il 1300 turbo benzina, 4 cilindri da 140 cavalli e 260 Nm di coppia. È uno degli due step di potenza disponibili, l'altro è il 160 cavalli disponibile sia con cambio manuale che con cambio automatico a variazione continua che quando si preme tutto il pedale dell'acceleratore simula 7 rapporti. Quindi partiamo subito col capire come va questo motore perché 140 cavalli su una vettura comunque lunga oltre 4,40 metri potrebbero sembrare un po' pochi. Nella realtà dei fatti vi dico invece che le prestazioni ci sono e non sono per nulla male. Parliamo di uno 0-100 coperto in 10,2 secondi e una ripresa da 70 a 120 km orari in quinta marcia, adesso vi spiego perché in quinta marcia e non in sesta in 14,2 secondi. Comunque dei buoni dati che confermano anche che insomma è un motore che riesce a essere adatto a tutte le circostanze anche ad esempio all'ambito autostradale. La ripresa è solo un po' lenta quando siamo di sotto dei 2000 giri perché la rapportatura è un po' lunga uno in alcune marce e due per via della presenza del filtro antiparticolato necessario anche nei motori a benzina per omologare questi motori con la normativa Euro 6D. Nello specifico si nota che è parecchio vuota in basso in seconda marcia tant'è che è molto molto lunga la seconda così come è lunga la sesta. Certo va a beneficio di consumi e del comfort acustico perché a 130 km orari la vettura in sesta gira circa 2600 giri quindi un regime tutto sommato anche valido. Però ecco ho notato comunque queste due cose. Qui abbiamo un cambio manuale a 6 marce con una frizione direi perfetta perché pesa il giusto ed è ben modulabile si capisce bene subito il punto di stacco e non ha fatica mai. È un cambio con gli nesti belli precisi non sono dei più secchi ma voglio dire non siamo neanche su una sportiva quindi va benissimo così e una rapportatura che come vi ho detto in alcune marce è un po' lunga. La leva si raggiunge davvero bene perché è ben rialzata quindi io appoggio il gomito sul bracciolo e la mano diretta sulla leva quindi molto molto confortevole in generale anche la posizione di guida. Attenzione però che questa non è una Qashqai benzina normale perché tutte le due varianti sono mild hybrid a 12 volt quindi un mild hybrid davvero molto 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 leggero perché vi dico al lato pratico non si percepisce affatto la sua presenza. Praticamente sembra che ci sia comunque un motorino d'avviamento da accendere e riavviare la vettura durante gli start e stop perché si sentono i classici scossoni da motorino d'avviamento e anche lo start e stop comunque a me non si è mai attivato al di sotto dei 30-20 km orari come invece dichiara Nissan. Quindi guardando anche i mild hybrid della concorrenza come quelli di Ford oppure di Hyundai secondo me poteva essere fatto un lavoro migliore. E quindi impatterà o no sui consumi? Beh allora ovviamente non essendoci una corrispondente variante a benzina senza sistema non posso verificarlo. Comunque vi dico che le percorrenze in valore assoluto non sono male. Le state vedendo qui in sovraimpressione. Devo dire che alla fine sono dei buoni dati per una vettura dal peso di circa poco meno di 1.400 kg con un motore a benzina e un cambio meccanico. Parliamo del comfort che è una componente molto importante all'interno di SUV di questo tipo quindi andiamo con i soliti step. Comfort a livello di sospensioni la vettura ha un assetto davvero davvero equilibrato perché nonostante abbiamo su cerchi da 19 pollici comunque abbiamo una spalla dello pneumatico da 50 e questo quindi consente di passare sopra le asperità anche più profonde degli centri urbani ad esempio in scioltezza senza preoccuparsi eccessivamente e poi anche perché la taratura in sé di molle ammortizzatori è ovviamente più turistica che sportiva e questo lo si può avvertire anche in curva in percorrenza quando si fanno magari delle curve di raggio stretto ad una velocità un po' più elevata rispetto al dovuto sente che c'è un codicamento laterale abbastanza importante però tutto comunque è sempre ben controllato. A livello acustico è stato fatto secondo me un buon lavoro per quanto riguarda il discorso dei fluscieri o dinamici nonostante comunque gli specchietti di grandi dimensioni ma ottima cosa incenerati sulle portiere e non sui montanti e questo vuol dire che anche le guarnizioni sono fatte abbastanza bene sebbene non abbiano i labri floccati ma comunque va bene è più un'inezia al lato pratico è ben insonorizzata. A livello acustico anche il motore comunque è molto silenzioso si avverte davvero poco la sua presenza in abitacolo però si percepisce abbastanza il rotolamento degli pneumatici qualche pannello fonoassorbente in più in quella zona poteva essere messo secondo me. Posizione di guida bella rialzata volante sia abbastanza inclinato ma nella norma direi per il segmento e visibilità molto buona sia anteriormente montanti non sono così importanti e spessi invece dietro dietro sì montanti sono un po' più ingombranti l'unotto comunque è mediamente grande e poi viene in soccorso il sistema di telecamera a 360 gradi pensate che Qashqai con la prima serie la versione restyling è stata una delle prime vetture proprio introdurre questo tipo di sistema. Qua è molto evoluto anche rispetto a Juke la qualità è notevolmente migliorata e c'è anche l'avvisatore posteriore di presenza nell'angolo cieco ed eventualmente va anche a frenare in retromarcia. Quindi una vettura confortevole ma avrà qui deficit di precisione di sterzo in generale un po' di goffagine nel muoversi in un percorso misto come la vecchia Qashqai. Beh devo dire che qua invece hanno risolto quel problema perché se andate a vedere nel canale c'è la prova di parecchi anni fa della Qashqai di seconda serie e appunto aveva uno sterzo che non era precisissimo e qui invece il comando è stato migliorato perché la precisione è buona. È reattivo guardate come si muove subito la vettura i minimi movimenti di sterzo. Ovvio non è direttissimo ma ci sta. Il diametro di sterzate è di 11,1 metri quindi nella media della categoria poteva essere fatto qualcosa di meglio secondo me perché comunque qualche manovrina in più bisogna farla. Si sente sempre che si vorrebbe un po' più di sterzo nelle manovre più strette. Quindi sterzo assolutamente promosso tra l'altro si può tarare la sua durezza in due modalità normale e sportiva parallelamente alle altre modalità di guida con il selettore qui al centro quindi questa è una cosa interessante perché ad esempio alle alte velocità lo sterzo secondo me è un po' troppo leggero quindi basta mettere modalità sport e si rigidisce il giusto. Per quanto concerne invece il resto della dinamica così di guida è una vettura comunque rassicurante direi tranquilla però che non si scompone mai eccessivamente quando bisogna fare una manovra d'emergenza nonostante comunque la presenza posteriore nelle versioni a due ruote motrici della barra di torsione. Ecco però ho rilevato invece che in frenata con quattro dischi autoventilati comunque gli spazi del resto sono buoni così come anche la valida la modulabilità del pedale del freno. Ho notato invece qualche alleggerimento di troppo del retrotreno infatti si percepisce un po' di movimento della coda dietro. Ecco lo percepisco proprio in una curva come questa che il telaio è parecchio rigido proprio la vettura torce pochissimo e quindi direi una combo tra telaio e assetto che comunque davvero ben studiata l'hanno migliorata molto da questo aspetto la nuova Qashqai. Parliamo ora della tecnologia di assistenza alla guida abbiamo il ProPilot quindi sistema di Nissan che include il cruise control adattivo in abbinata anche al centraggio automatico della corsia. Sistemi che in abbinata funzionano bene nonostante comunque il cruise control adattivo sotto i 30 km orari si stacchi perché abbiamo il cambio manuale però ad esempio quello della concorrenza del gruppo Volkswagen ad esempio permette anche con cambio manuale di arrivare proprio fino a 0 km orari sempre scalando le marce. Il centraggio automatico della corsia ben tarato tiene bene il centro della corsia e lo fa con movimenti che non sono mai fastidiosi tuttavia ho da ridire sul mantenimento attivo in corsia quando andiamo al di là delle linee della nostra corsia perché invece non funziona tramite lo sterzo direttamente bensì tramite le pinzate dei freni e quindi vibra il volante e pinza il freno corrispondente per riportare la vettura in corsia. Non capisco perché abbiano messo un sistema così quando hai l'assistenza attiva allo sterzo per il centraggio automatico. Sessore di presenza angolo cieco con un led rosso ben visibile appunto funziona bene frenata automatica d'emergenza con avviso anticollisione ben tarata ma invasiva comunque tutto personalizzabile dal quadro strumenti a livello di intensità e di volumi ad esempio. Per riconoscimento segnaletica stradale anche questo fatto parecchio bene come parecchio bene fatto l'adapt display da 10,8 pollici che ci indica velocità limiti di velocità distanza dal veicolo che precede indicazioni navigatore quindi un bel display sempre bello luminoso e mai fastidioso ecco ora ci fermiamo per scoprire com'è fuori la nuova Qashqai soprattutto se sono migliorate un po' le finiture interne e anche gli spazi interni e bene diamo un'occhiata all'esterno della nuova Qashqai perché anche qui abbiamo più un'evoluzione che una rivoluzione hanno fatto bene perché vale sempre il solito detto squadra che vince non si cambia a livello di dimensioni la vettura sembra parecchio più grande rispetto alla vecchia Qashqai ma in realtà la lunghezza aumentata di soli 4 centimetri tra in larghezza e 4 in altezza in generale comunque le proporzioni sono rimaste più o meno quelle con un'esesperazione vediamo qui davanti della v-shape quindi della calandra a forma di v con il centro radar per il riscontro adattivo e i fari che sono qui dei matrix led per l'allestimento tecna devo dire che fanno parecchia luce l'automatismo che accende e spegne le varie matrici di led sulla base di chi sopraggiunge o chi precede funziona bene è preciso e non rischia mai di abbagliare qualcun altro e poi vediamo che ci sono molte più nervature rispetto alla vecchia generazione soprattutto al posteriore la vettura si fa un po più appuntita un po più spigolosa e quindi leggermente più aggressiva anche i fari posteriori sono diventati direi finalmente completamente a led ora diamo un'occhiata all'interno e anche per capire soprattutto il cambio di finiture e di spazio per i passeggeri e per i bagagli il bagagliaio da 504 litri si piazza nella media del segmento per il dimensionamento nello specifico poi spicca l'ampia larghezza del piano e della bocca di carico la cui soglia però è posta a ben 78 centimetri da terra le finiture sono buone così come il piano diviso in due parti per organizzare a piacimento il carico la conformazione generale non è ottimale ai lati infatti è difficile sfruttare bene lo spazio i litri dichiarati a schienali abbattuti invece sono 1447 l'accessibilità e lo spazio per chi siede dietro non sono affatto male difatti sono pratiche le porte con apertura 90 gradi ideali per sistemare bene i seggiolini anche al centro non si sta male grazie anche al rialzo poco pronunciato la seruta è sì confortevole ma è un po piatta e poi manca sia la regolazione longitudinale del divano sia quella dell'inclinazione degli schienali eccellente invece la dotazione di accessori e lariosità qui aumentata dalla presenza del tetto panoramico opzionale le finiture della zona anteriore sono buone ma non eccellenti è piacevole la finta pelle che riveste sia la plancia che i cuscini per le ginocchia come vi ho mostrato nella mia stories curiosità di instagram ma le plastiche rigide abbondano e non sono delle più solide ai movimenti per fortuna è rimasta l'ergonomia dei comandi della vecchia cash kai il clima ben funzionante è separato dallo schermo dell'infotainment nissan connect da 9,2 pollici quest'ultimo è lo stesso visto nella juke è intuitivo nell'uso personalizzabile nelle schermate dotato di carplay senza cavo e connesso per la ricerca dei punti di interesse nella navigazione il controllo da remoto tramite l'applicazione che peraltro è molto fluida un po come nel nuovo schermo della strumentazione peccano secondo me alcune grafiche un po datate e grossolane nell'aspetto infine tutti i portoggetti non sono rivestiti ma quelli presenti sono comunque abbastanza capiti ebbene eccomi di entrato nella serie di musile di borsoi che ringrazia ancora tanto per avermi concesso questa nuova cash kai in prova per il momento c'è solo un motore questo 1300 turbo declinato come vi ho detto prima in due potenze e con cambio manuale o cambio a variazione continua due o quattro ruote motrici quindi è vero mancano forse un po di motorizzazioni manca un ibrido che dovrebbe arrivare fra non molti mesi manca la versione elettrica con generatore che arriverà al prossimo anno quindi per il momento è una gamma un po scarica come quella della giu che effettivamente comunque vi dico i prezzi questa vettura specifica tecna con il bicolore il tetto panoramico e rotino chiave in mano costa 36.800 euro scontata qui da borsoi circa 34.500 senza rientro poi esempio con rientro o finanziamento arriviamo anche a 32.000 comunque vi lascio i contatti in descrizione per farvi fare un preventivo personalizzato anche a distanza per una cash kai e ne hanno già qualcuna in pronta consegna quindi cosa dire io vi aspetto nei commenti per sapere un po cosa ne pensate soprattutto se siete possessori di cash kai di precedente generazione di farmi sapere se siete convinti su quella nuova oppure come vi trovate con quelle vecchie seguitemi su instagram per rimanere aggiornati sulle chicche le curiosità delle vetture che vado a provare spero che vi piaccia ecco fatemi anche sapere se quel format di instagram vi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi quindi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao